Il seminario è sacrificio, come la Santa Messa è il vero e autentico sacrificio di Cristo sulla croce per i nostri peccati. Ogni giorno i seminaristi lavorano, pregano e studiano per la maggior gloria di Dio, per offrire a se stessi, per morire a se stessi, per la salvezza delle anime. Il seminario è la Santa Messa perché adesso inizia il sacrificio, adesso è il momento di dire il sì, il sì a Dio come Maria Santissima all'Angelo, per portare frutti di vita eterna e per la salvezza delle anime. Grazie.